ciao ragazzi buon pomeriggio sono dracalypso e oggi voglio farvi conoscere un nuovo brand che sta avendo davvero un enorme successo negli stati uniti d'america ma che ultimamente si sta davvero inserendo molto bene il panorama italiano sto parlando di boobs tape è un brand che ha iniziato la sua crescita aziendale con l'ideazione di nastri adesivi modellanti per il corpo che possono essere utilizzati sul seno piuttosto che sui glutei sui fianchi ma per noi drag queen è davvero un ottimo prodotto per creare l'effetto tucking sul nostro corpo per chi non conoscesse l'effetto tucking è quella tecnica che serve per avere il pube piatto quindi per chi si è sempre chiesto si è sempre domandato come facciamo noi drag queen a nascondere i nostri gioielli di famiglia questa è diciamo la risposta sono praticamente come ripeto dei nastri in questo caso nero ok ma c'è anche color carne che ha la particolarità di avere una elasticità pari al quasi al 180 per cento questo è un fattore importantissimo perché per noi artisti avere un prodotto che aderisce molto bene sulla pelle e che segua tutti quanti i nostri movimenti ci dà sicuramente molta sicurezza nel momento in cui siamo su un palco ci siamo e ci esibiamo davanti a un pubblico oltre a questi prodotti ne fa altri tra cui per esempio anche nipple covers che sono praticamente degli adesivi specifici per i capezzoli ma anche proprio dei prodotti di trattamento come potete vedere nel sito che lo metto qui il link fa anche diciamo delle lozioni per il seno piuttosto che uno scrub specifico seno è un prodotto molto molto valido sono appunto dei delle maschere a 24 di noro 24 carattere appunto per il seno guardate il sito fatemi sapere cosa ne pensate e inserendo il codice sconto calli 5 avete diritto al 5 per cento di sconto sui prodotti che acquistate spero di avervi fatto conoscere il nuovo brand di avervi fatto incuriosire in qualche modo vi auguro buon pomeriggio e un bacione a tutti ciao ciao